Un esercizio sui modi della scala maggiore che sfruttiamo per la tecnica. Andiamo a vedere subito come fare. Parto da una scala che mi piace, per esempio la scala di Fa maggiore, e verifico ovviamente che la scala di Fa maggiore sia in ordine, quindi lo suono. Una volta che mi sono assicurata che la scala di Fa è in ordine, faccio partire una nuova scala dai vari gradi della scala di Fa. Quindi una volta faccio da Fa a Fa, un'altra volta faccio da Sol a Sol, un'altra volta faccio da La a La, per tutta l'estensione della scala. Facciamo tutto in legato per cercare di dare continuità alla tecnica e sentire se eventualmente le mie dita hanno qualche cosa che non va. Ovviamente posso fare questo esercizio anche discendendo. Molto utile, molto pratico, ti aiuta a concentrarti sui vari gradi della scala maggiore. Consiglio principe, non scrivertelo da nessuna parte, fai tutta memoria. Ma oggi c'è una parte del dettaglio di Fa mi ha salvato il filmico!